buona giornata amici da massimo foghetti oggi è giovedì 20 gennaio 2022 il sole sorge questa mattina alle 7.35 e tramonta dopo le 17 esattamente alle 17.03 quindi abbiamo avarcato anche il limite delle 17 insomma la giornata si allungano lentamente ma sempre di più vediamo chi è il santo del giorno in realtà i santi festeggiati oggi sono due e sono san sebastiano e fabiano il culto di fabiano è stato associato a quello di san sebastiano che in realtà è il santo più noto perché fu sepolto nelle catacombe romane appunto dedicate al santo fabiano fu eletto papa in condizioni miracolose si narra che durante il conclave i padri che stavano eleggendo il papa videro una colomba posarsi sul capo di fabiano e fabiano era un semplice prete che veniva dalla campagna quindi non aveva alcuna velleità di diventare il capo della chiesa in realtà questo segno miracoloso fu interpretato come un miracolo e appunto fabiano fu eletto papa comunque finì tra le persecuzioni dell'allora imperatore e fu perseguito durante gli anni del 250 dando un grande esempio di perseveranza nella sua fede cristiana e fu martirizzato san sebastiano invece lo conoscono un po tutti per la sua iconografia del santo trafitto dalle frecce era un soldato dell'imperatore capitano dei pretoriani sotto diocleziano si convertì al cristianesimo fu denunciato e l'imperatore lo condannò ad essere trafitto dalle frecce dei suoi arcieri africani in realtà nonostante che il soldato fosse colpito non morì e infatti dopo la sentenza fu dopo il fatto della pena fu curato da una matrona ma poi fu fu incarcerato nuovamente e questa volta fu finito a colpi di clava appunto nel circo quindi un santo che viene poi così venerato in modo particolare anche dai vigili urbani perché lo considerano un po' il loro protettore ed ora diamo un'occhiata alle previsioni atmosferiche il tempo si sta un po' rovinando rispetto all'alta pressione dei giorni scorsi vediamo che le condizioni atmosferiche si fanno sempre più instabili c'è un aumento della nuvolosità con piogge diffuse al mattino e qualche rovescio temperature massime sono in calo e i venti spirano da ovest nord nord ovest dunque una situazione non più idilliaca come nei giorni scorsi ma l'inverno torna a farsi sentire cominciamo le nostre e la nostra rassegna stampa a partire dal resto del carlino nella giornata di oggi sulla pagina di fano in bolletta anche la piscina dini salvalai insostenibili 15 mila euro al mese e l'aumento delle caro vita l'aumento delle bollette coinvolge anche un po' tutte le strutture anche le strutture sportive a tanto ammonterà il costo del gas in base alle nuove tariffe rispetto ai 7 8 mila euro versati fino a novembre ricci che è il presidente della società che gestisce la piscina il comune si mette una mano sulla coscienza ha detto occhi puntati sull'impianto in costruzione della fondazione ma questo non sarà pronto se non tra qualche mese appunto di quest'anno entro la fine dell'anno dovrebbe essere operativa la struttura in zona aeroporto secondo l'assessore allo sport barbara brunori e poi abbiamo due articoli di politica in questa prima pagina del resto del carlino a fondo pagina il rinnovo del direttivo del partito democratico un rinnovo che si è avuto non tanto pacificamente ma sempre con polemiche polemiche che da un po' di tempo agitano all'interno del partito democratico nel pd dopo il congresso rimane netta la spaccatura tra le due correnti a confermarlo è il duratacco del consigliere comunale enrico nicolelli contro il segretario tommaso della dora in occasione della elezione del presidente e del direttivo nel ruolo di presidente del partito è stato eletto matteo radi iscritto nel circolo di metauriglia ponte sasso scelta su cui calano appunto le critiche di nicolelli non tanto sulla persona ha detto quanto sul metodo che era quello di imporre da parte di idem un nome loro tanto che noi di futuro democratico ci siamo astenuti nicolelli ha qualcosa da dire anche sul direttivo avevamo chiesto di non far entrare gli assessori per tenere separato un po il ruolo politico da quello amministrativo ma non ci hanno ascoltato appunto ha rimproverato e diamo un'occhiata da chi è composto questo direttivo vediamo che alla fine il voto comunque è stato espresso all'unanimità insomma anche per dare un chiaro segnale all'esterno agli elettori ne fanno parte marina barnesi ex assessore carla cecchetelli attuale presidente del consiglio comunale l'assessore gli assessori sarà cucchiarini cristian fanesi e poi abbiamo giorgio gambelli e erica magi renato claudio minardi angelo renzoni dimitri tinti altro assessore riccardo tonti bandini clarissa vichi e poi componenti di diritto sono anche la capogruppo agnese giacomoni il tesoriere sauro berluti confermato all'unanimità la segretaria dei giovani democratici silvia morelli ed i coordinatori di circolo tommaso bittoni primiano bubici giovanni clini daniera dagata michele gliaschera raffaella manna enrico niconelli federico perini è stata votata anche la commissione di garanzia insomma un partito che si ristruttura per tornare a così a gestire una nuova fase della sua vitalità in vista delle prossime elezioni l'altro articolo di politica riguarda invece la risposta che l'assessore alle partecipate del comune di fano samuele mascarin dà un po a tutte le prese di posizione che si sono avute in questi giorni sul ruolo di aset nei confronti di marche multiservizi il dialogo con marche multiservizi è impossibile il caso aset dunque parla mascarin mascarin sgombera subito il campo dall'equivoco che l'assetto interamente pubblico di aset abbia pregiudicato la realizzazione del biodigestore perché si parte poi sempre dal biodigestore per arrivare alle vellità di marche multiservizi di inglobare appunto la partecipata fanese si è adottato il pretesto del mancato accordo sul luogo di realizzazione dell'impianto per procedere unilateralmente a libero mercato su altro territorio della provincia ovviamente il riferimento è a marche multiservizi e con uno diverso e non condiviso piano industriale e questo secondo mascarin mascarin è il conquibus della difficoltà di intavolare un discorso con marche multiservizi anche per essere belli ora serve il green pass nuove regole da oggi per chi usufruisce dei servizi alla persona ci aspettiamo hanno detto i parrucchieri tante disdette giusto però se ci riporta alla normalità e siamo alcuni sono disposti a fare questi sacrifici se questo può contribuire a insomma a fare un'inversione della diffusione della pandemia niente più accesso libero dunque dal parrucchiere dai barbieri o dalle estetiste si allarga infatti a partire da oggi l'obbligo di esibire il green pass per accedere ai luoghi pubblici in particolare ora la certificazione verde di base sarà necessaria anche per usufruire a tutti i servizi della persona il premio franco fortini dedicato alla poesia trova a casa passaggi festival la rassegna dedicata alla saggistica ospiterà la cinquina dei finalisti dunque un pregio in più di questo festival che già attira di per sé tantissime persone durante il mese di giugno solitamente a fano ed ora si arricchisce anche di questo premio che è un premio prestigioso mondolfo sotto osservazione altre nove telecamere e dopo gli otto occhi che erano stati già attivati la video sorveglianza si estende cinque degli impianti destinati al capoluogo che ne era sprovvisto ben cinque dunque dei nuovi occhi elettronici saranno posizionati nel centro di mondolfo proprio così conferma il vice sindaco uno con un elettore targhe e due senza in piazza delle comune più uno in un piazzale nel più uno in piazzale borroni un poi una telecamera con targa system e una di contesto saranno collocati in piazza della unificazione a marotta e altri due all'incrocio tra la statale 16 e la 424 della val cesano attualmente regolato da un semafero qui ci sarà anche una grande rotatoria nuove opere a solfanuccio e cerasa si realizzeranno un centro sociale un impianto sportivo e altro per 1,6 milioni di euro e questo l'importo delle opere pubbliche pianificate dall'amministrazione comunale di san costanzo a urbino quanti dubbi sulla sede del commissariato questa sede che insomma si traccheggia non si dilunga si sposta la società che ha partecipato alla manifestazione di interesse a suo tempo aveva anche individuato la sede lo stabile e la stava realizzando lancia una proposta la città prende il manufatto e lo completi l'opera è attualmente ancora al grezzo in località casino noci ed è stata concepita realizzata fino al punto in cui la si vede ora ora appunto la società dice che a completarla potrebbe essere l'amministrazione comunale o chi per essa appunto per realizzare questa opera che necessaria impellente che è veramente urgente per la sicurezza di urbino un incidente stradale a fondo pagina una studentessa travolta da un'auto le sue condizioni però migliorano successo in via la laurana a urbino si tratta di sarah mier di 21 anni di bolzano la quale stava attraversando la strada quando è stata investita dall'auto una fiat punto guidata da una giovane di urbino di 20 anni che viaggiava in direzione mercatale per fortuna le sue condizioni stanno migliorando e sulla pagina di urbino si parla anche della università l'ateneo lavora per il ritorno soprattutto in presenza federica titas che è presidente del consiglio degli studenti era sicura tranquilli dice ai giovani appunto agli universitari l'università di urbino non diventerà telematica e cercheremo faremo di tutto perché appunto le elezioni continuino a svolgersi in presenza una esigenza fondamentale per la formazione degli studenti il comitato a cagli punzecchia punzecchia la politica per il futuro dell'ospedale celli si prepara il piano lo sappiamo si prepara il piano sanitario regionale ma ci sono troppi silenzi soprattutto per quanto riguarda la sorte degli ospedali periferici come quello di cagli arrivano voci anche su una nuova sede insomma il comitato dell'ospedale vuol sapere che cosa accade appunto sul futuro del celli lo dice il movimento dei cittadini e l'associazione per la sanità pubblica che torna a pungere a sollecitare le istituzioni regionali per saperne di più su quale sorte appunto incombe su questa struttura e poi ovviamente si torna ancora a parlare sui giornali sul successo che le località sciistiche del nostro territorio stanno tenendo in questo periodo c'è un po' di neve e quindi si torna a sciare ed è una risorsa importante quella di avere a pochi chilometri dalla costa delle montagne in cui c'è la neve poche regioni lo hanno le Marchie e l'Abruzzo per esempio e quindi è una risorsa in più da sfruttare a livello turistico e vediamo cosa dice il Carlino sulla pagina pesarese l'inverno nero del turismo una valanga di disdette nonostante le risorse però insomma il turismo non va affatto bene bene vanno solo gli impianti sciistici sulle Nerone Catria e Carpegna sono stati presi d'assalto soprattutto dai pesaresi ma questo non serve a sollevare le sorti del settore e qui abbiamo delle dichiarazioni degli addetti ai settori per esempio i tour operator abbiamo Ciuccoli, Adolfo Ciuccoli che è fondatore di TuquiTour la prima agenzia turistica a nascere nel 1958 a Fano ed ora dice sia per i tour operator che per l'agenzia viaggi se non ci aiutiamo a sopravvivere veramente a Pasqua non so se ci si arriva perché veramente il calo appunto della clientela in questo settore è veramente epocale non si era mai verificata una crisi così grave come l'attuale ma del resto la pandemia e più ovviamente anche il caro vita incide perché poi le vacanze sono le prime che si tagliano quando una famiglia si trova in difficoltà il balneare invece spera in un miglioramento della situazione durante l'estate come si è verificato anche nel 2021 e anche nel 2020 il balneare appeso solo alla speranza il covid d'estate allenta la mossa e qui vengono evidenziate le impressioni di chi è sul fronte delle concessioni balneari signorini albergatore, prenotazioni spesso a rischio ma insomma ancora presto per parlare di prenotazioni di ombrelloni e sedie a sdraio e invece è attuale il discorso del caro Bollette chi paga e chi perogra purtroppo è costretto a chiudere il grido d'aiuto di tanti tanti artigiani qualcuno l'ha stangata, l'aspetta, altri l'hanno già avuta una fioraia, il mio conto della luce passa da 700 a 1200 euro quasi raddoppiato, manca poco insomma 1400 che le paga 1200 insomma siamo veramente all'80% in più una cifra astronomica per gli aumenti insomma gli aumenti di solito sono del 3-4% massimo 10%, mai 70-80% hanno raggiunto queste percentuali e i piccoli ancora più penalizzati l'energia gli costa 4 volte in più Moreno Bordoni che è il segretario provinciale della CNA dice se va così fino alla fine dell'anno alcuni potrebbero non farcela purtroppo e quindi ci vogliono aiuti governativi perché ovviamente le istituzioni locali non possono fare più di tanto Caro spendi troppo in profumi e lui la picchia e questo è un primo articolo di una serie di notizie che oggi evidenziano i giornali sulla violenza fatta alle donne ci sono ancora molti casi in cui degli uomini se la prendono proprio con le donne e le malmenano un macedone in questo caso viene alla sbarra per maltrattamenti la domanda su uno scontrino di 300 euro ha scatenato l'aggressione violenta dell'uomo insomma la sua compagna vede uno scontrino di 300 euro relativo all'acquisto di alcuni profumi uno per lui uno insomma per uomo e due per donna ma non erano per la compagna e quindi erano per altre donne le chiede spiegazioni l'uomo si incattivisce la malmena e quindi viene denunciato nell'incidente probatorio è emerso che i maltrattamenti erano stati anche altri la donna però è tornata con il marito alla fine insomma si cede e poi botte anche al figlio disabile condannato un operaio di 42 anni si tratta di un romeno che agiva spesso sotto l'effetto dell'alcol e poi diceva di non ricordare nulla buoni postali decurtati primo ricorso vinto grazie all'associazione dei consumatori Asdusbef dell'avvocato Floro Bisello tempi brevi per i pronunciamenti che fine hanno fatto i risparmi lasciati dai nonni ai nipoti o quelli dei risparmiatori in genere in buoni postali in più di un caso decurtati e ora recuperati grazie all'azione legale dell'avvocato Floro Bisello presidente regionale appunto di questa associazione che si sta occupando con successo di una serie di ricorsi una serie di ricorsi appunto che hanno avuto successo ma che hanno così avuto una motivazione che è stata resa accettabile dal giudice e c'è chi aveva lasciato 500 euro a chi anche qualche decina di migliaia di euro insomma una cifra che poteva variare da un importo piccolo a un importo veramente cospicuo l'Unione Pian del Bruscolo cerca 5 agenti di polizia locale le domande a chi vuole partecipare a questo concorso scadono entro il prossimo 14 febbraio via Pec due prove pratiche una fisica e l'altra di guida poi scritto e orale fanno parte del concorso Servizio Civile Universale caccia nove volontari e per il Comune possono partecipare al bando giovani tra i 18 e i 28 anni 25 ore a settimana e un rimborso di 444 euro mensili tutta la vita in un video l'ultimo dono a Cristian si sono svolti ieri i funerali di Cristian Fiocchi 37 anni qui vediamo alcuni momenti del funerale che si è celebrato nel campo sportivo Gramsci per dare l'ultimo saluto appunto a questo ragazzo 37enne che ha perso la vita domenica scorsa in un tragico incidente sulla Monte Labattese all'incrocio con via Mazzini e a questo punto possiamo passare al Corriere Adriatico dove vediamo che la pagina fanese è dedicata alle dichiarazioni del Assessore Samuele Mascarin sull'ASET che risponde alle osservazioni della lista civica del partito insomma azione più Europa tema cruciale per il vertice di maggioranza di oggi e poi la città del futuro grande fermento edilizio ieri si è svolto un convegno online sul tema dell'urbanistica tra gli esperti tra i tecnici del settore i presidenti degli ordini e il sindaco il sindaco Massimo Seri il sindaco di Fano e poi avevamo anche l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Aguzzi si è un po' profilato quello che è l'immagine della città del futuro immagine che Fano sta costruendo lentamente giorno per giorno grazie al PRG che dovrebbe essere in bozza almeno reso pubblico entro la fine di quest'anno poi abbiamo quei progetti grandi quei progetti costosi ma innovativi che riguardano il waterfront il progetto Pinqua abbiamo la ristrutturazione del Sant'Arcangelo poi anche quella della Federiciana insomma segni che lasciano le novità dell'Afano del futuro ma vengono anche richiesti progetti che non solo evitano il consumo del suolo ma anche una ristrutturazione una rigenerazione a livello di lotti di isolati non più di singole abitazioni insomma una discussione che ovviamente verrà prorogata anche nei prossimi mesi via via che si avvicina l'approvazione o la pubblicazione del piano regolatore sindacalista presidente dell'EPD futuro democratico si astiene abbiamo l'articolo di Osvaldo Scatassi oggi sul Corriere Adriatico sulle elezioni del direttivo del Partito Democratico Fanese mentre una risposta dell'assessore Dimitri Tinti a Movimento a 5 Stelle sul reddito di cittadinanza Tinti replica a Tarsi e al Movimento 5 Stelle le Tarsi di Fratelli d'Italia due mesi per mappare i soggetti interessati a tavoli e l'assessore Tinti respinge le accuse dei ritardi per quanto riguarda poi l'approvazione del piano d'ambito rimproverando che insomma ci sono state a ritroso delle situazioni che hanno causato questi ritardi questi ritardi una iniziativa del musicista Paolo Casisi musicofilo ed esperto di musica moderna la storia di 60 anni raccontata in 15 conferenze si tratta di un pacchetto messo a punto per concerti rassegne e festival e poi a Cartoceto una notizia di cronaca sei etti di droga nascosta tra portaghiaccio e mobili arrestato a settembre un 34enne di Cartoceto che ha patteggiato la pena a un anno e quattro mesi vediamo anche la pagina di Senigaglia il progetto della ciclovia adriatica viene stoppato dalla regione la pista non può passare in centro storico secondo la regione l'itinerario dovrà invece proseguire sulle lungomare mameli il senso unico senza accesso al porto è un problema dunque bocciata dalla regione la modifica del progetto a questo grande itinerario ciclabile che poi dovrebbe percorrere tutta la costa adriatica giungere anche a Fano e proseguire verso nord fondi covid stanziati dal ministero arriva il nuovo ascensore la TAC no niente macchinario al pronto soccorso si farà l'ascensore ma non la TAC screening per sei classi delle elementari due bimbi sono stati trovati positivi e diamo un'occhiata ora alla pagina pesarese pass base e rincari per i parrocchieri un percorso ad ostacoli oggi debutta l'obbligo del certificato per chi offre servizi alla persona dunque abbiamo già esaminato questo problema le attività sono allo stremo la regione deve aiutare in questo caso interviene l'assessore pesarese Franco Ellucci sul caro bollette che ha colpito le imprese le imprese della provincia di Pesalo subiranno sui consumi rincari per cento pensate 150 milioni di euro una cifra astronomica le famiglie che il più delle volte faticano già a fare quadrare i conti con un potere d'acquisto ridotto subiranno ancora dei problemi subiranno ancora delle difficoltà eppure gli enti locali il comune di Peso ha stimato un gap di un milione di euro per rincari delle utenze hub per i bambini nel poliambulatorio delle 5 torre da attivarsi ai primi di febbraio insomma la categoria la fascia d'età dei bambini questo giorno è più interessata alla diffusione del covid e appunto si moltiplicano le presenze ai centri vaccinali e dai pediatri le scuole sono in affanno ed è corso ai tamponi tra gli studenti giorni sempre più difficili attese per domani nuove comunicazioni insomma le fasce d'età più giovanili sono quelle più interessate oggi dalla pandemia e il Corriere Adriatico dà l'addio anche al tenore Miguel Gomez che da Bogotà è venuto a Pesaro per Rossini e qui è rimasto ha vinto una borsa di studio nel 1972 al conservatorio e ha deciso di restare nella città del Cigno per sempre doveva restarci solo per tre anni ma non tornò mai più in patria e divenne pesarese tutti gli effetti Miguel Gomez si innamorò a tal punto della città di Pesaro da decidere di trasferire tutta la sua famiglia appunto nella città marchigiana mantenendo qui le sue basi anche durante la carriera e a questo articolo è di fondo pagina invece vediamo il funerale di Cristian Fiocca che si sono tenuti nel campo sportivo di Osteria Nuova calci in pancia dopo aver partorito condanna per il compagno violento all'uomo inflitta dal giudice una pena di 26 mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate e questo è un altro caso appunto di violenza alle donne casi che si moltiplicano assai in questi giorni e l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi leggendo i giornali e siamo in conclusione con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento alle 7 di domani mentre per le notizie del giorno alle 20.30 all'occhio la notizia di Fano TV buona giornata